E' una storia con interrogativi che ancora cercano risposta. La mancata apertura dell'aeroporto di Tortoli ha portato davanti i cancelli un sit-in di protesta. Imprenditori, semplici cittadini e viaggiatori che non smettono di chiedere buone notizie sul futuro dello scalo. In questo momento da operatrice dico che non ci sono prenotazioni. Ci sono soltanto molte richieste che in particolare chiedono proprio notizie dei trasporti, cioè navali e anche aerei. Purtroppo noi operatori non sappiamo cosa dire. Si aspettano che i soldi spesi negli anni, le autorizzazioni che l'aeroporto possiede, possano non finire nel nulla. Vogliono rivendicare i loro diritti, che si possa ripartire da dove il traffico si è interrotto e difendere la provincia dall'impoverimento progressivo provocato anche dalla mancanza di collegamenti facili con il continente. Le risorse che potrebbe avere la Sardegna e in questo caso Tortoli, Arbatax, eccetera, sono disattese. Nel senso che ci sono le risorse, cosa si aspetta a utilizzarle? I soldi per l'acquisizione della pista da parte della regione sono disponibili ma incastrati nei grovigli della burocrazia. La giunta regionale, quindi la parte politica, ha fatto il suo compito. Già tre anni fa ha deliberato il finanziamento di 6 milioni e mezzo di euro con la finalità appunto di acquisire la struttura aeroportuale di Tortoli. La burocrazia invece regionale è ancora ferma al palo.